Ferrari aveva un grande amore per il prodotto automobile, questo amore per il prodotto lo metteva anche nella forma, questi stilemi esistevano indipendentemente da quello che è stata la mia attività, esistevano prima, io credo che venissero come tutta la Ferrari dalle corse, le corse determinavano una forma, la forma determinava poi delle tradizioni e restava una base su cui lavorare.